Hai voluto la bici? Adesso proteggila! Con Bike Identificator, l'antifurto più innovativo che c'è in circolazione. Bike Identificator ha due microchip. Uno si inserisce nel telaio, mentre l'altro riconosce il vero proprietario, al quale basta uno smartphone per identificare la propria bici. Corri nel negozio o nell'officina di tua fiducia. Bike Identificator costa solo 25 euro. Non hai costi fissi, non servono batterie o schede telefoniche ricaricabili. Dopo l'acquisto, registrati su BikeIdentificator.com Inserisci i tuoi dati e configura il profilo dedicato alla tua bici aggiungendo foto, informazioni e tutte le manutenzioni che hai fatto. Da adesso la tua bici avrà un certificato di proprietà e un unico proprietario. Tu! Bike Identificator è un'azienda che progetta il futuro. Per questo sa bene come proteggere il presente. Bike Identificator. Ovunque, sei solo mia.